ciao ragazzi dove andiamo michela oggi fa caldo facciamo le rapide vieni qua amica, appiccina da papa basta fate la pavola fate la pavola siamo partiti no non ci doveva no 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 li mettilo come stava rimettilo come stava si chiudilo al massimo e lascialo così ecco lo eh come faccio io eccolo amiche le che eccolo qua te bagni porca miseria fu un culo pieno mi ha preso è fresca eh ecco la doccia porca miseria in pieno ma proprio a me mamma mi sa ma sono tragico ah le sono calmate le acque ma però sono tragico no lei è zuppa eh come sei a papà? zuppa zuppa va bene va bene fa niente a papà no no è finito è finito finito è il terrore poi ci dovrebbe essere a foto almeno ci asciugamo qua che sta dentro no? com'è stato amiche? umido com'è stato amiche? qui sta andando? come se staggiamo con'è stato amiche? com'è stato amiche? Grazie a tutti. Grazie a tutti.